Padre Michel Rodrigue conferma tutto. Il nostro paese sarà castigato. Guarda questo video fino alla fine e iscriviti al canale. Padre Michel Rodrigue, un sacerdote di grande fama, ha recentemente parlato di una profezia che farà gelare il mondo intero. Le sue parole echeggiano con una gravità che risuona nelle coscienze di molti, evocando un senso di urgenza e riflessione profonda. Questo messaggio profetico richiama l'attenzione su eventi imminenti, sfidando le persone a guardare oltre il velo del quotidiano per percepire le verità spirituali nascoste. Le profezie di La Salette, rivelate ai bambini Melanie e Maximin, rappresentano un elemento centrale di questa narrazione. Queste visioni, ricevute nel 1846, contengono messaggi di grande rilevanza per il nostro tempo. La Vergine Maria, apparendo ai due piccoli pastorelli, ha consegnato loro un messaggio di avvertimento e speranza, che includeva una serie di segreti destinati a rimanere nascosti fino a quando non fossero stati autorizzati a rivelarli. La storia di queste rivelazioni è complessa e ricca di controversi. Le diverse versioni del Segreto di La Salette, pubblicate tra il 1851 e il 1878, riflettono le tensioni e le sfide dell'epoca. Le parole della Vergine, che denunciavano la corruzione all'interno del clero e prevedevano gravi catastrofi se l'umanità non si fosse pentita, furono accettate con difficoltà. Alcuni, infatti, le considerarono troppo dure e critiche, al punto che nel 1915 la Santa Sede proibì ulteriori pubblicazioni sull'argomento, tentando di mantenere la pace e l'unità all'interno della Chiesa. Nonostante la censura, la ricerca e la curiosità per queste profezie non si sono mai del tutto placate. Nel 1999, padre Michel Corteville ha scoperto documenti che hanno permesso di approfondire e convalidare il Segreto di La Salette, rendendo possibile una discussione più aperta su questi temi. Questa scoperta ha portato nuova luce sulle parole profetiche di Melanie e Maximini, rivelando dettagli precedentemente sconosciuti e aprendo un nuovo capitolo nella comprensione di queste rivelazioni. La profezia di La Salette parla di una crisi ecclesiastica profonda, con una perdita di fede tra i fedeli e una corruzione diffusa tra i ministri della Chiesa. Questo messaggio è particolarmente rilevante oggi, in un'epoca in cui molti sentono che la spiritualità sta diventando sempre più superficiale e che le istituzioni religiose non riescono a rispondere alle esigenze morali e spirituali dei loro seguaci. Le parole della Vergine alla Salette invitano alla conversione, alla preghiera e al pentimento, elementi fondamentali per ristabilire una relazione autentica con Dio. Nel contesto di queste rivelazioni storiche, un evento recente ha aggiunto ulteriore gravità alla situazione spirituale attuale. Nel 2023, una suora in Brasile ha avuto una visione che ha sconvolto coloro che l'hanno ascoltata. Nella sua visione, la suora ha visto persone divertirsi senza alcuna consapevolezza delle conseguenze spirituali delle loro azioni, mentre altri pregavano in modo apatico, senza vera devozione o comprensione del significato della preghiera. Questa scena di indifferenza spirituale è stata seguita da una visione ancora più inquietante, corpi ammucchiati e un bambino che piangeva, simboli di una profonda perdita spirituale e di una punizione imminente. L'interpretazione di questa visione è stata chiara per molti, rappresenta un avvertimento urgente sulla situazione spirituale del mondo. La mancanza di fede, la superficialità nelle pratiche religiose e la corruzione morale sono viste come segni di una crisi imminente. La suora ha interpretato la visione come un richiamo alla preghiera fervente e sincera, in particolare per i sacerdoti e la Chiesa, che stanno attraversando un periodo di grande prova. Questa chiamata alla preghiera è in linea con le profezie di La Salette, che hanno parlato di un piccolo resto di fedeli che manterranno la fede in tempi di grande apostasia. Questo piccolo gruppo è visto come il nucleo che manterrà viva la luce della verità in un mondo che si allontana sempre più da Dio. La profezia di La Salette e la visione della suora brasiliana convergono in un messaggio di speranza, nonostante le difficoltà e le tribolazioni, c'è ancora una possibilità di redenzione e rinnovamento spirituale per coloro che rimangono fedeli. La narrazione di queste profezie e visioni si intreccia con la realtà attuale, dove molti percepiscono una crescente oscurità spirituale. Le parole di padre Michel Rodrigue, insieme alle profezie di La Salette e alla visione della suora brasiliana, offrono una guida preziosa per navigare questi tempi difficili. Invocano un ritorno alla preghiera, alla penitenza e alla ricerca sincera della volontà di Dio. In questo contesto, il ruolo della Chiesa e dei suoi ministri diventa cruciale. Le profezie di La Salette avevano previsto una crisi all'interno del clero, con una perdita di fede e una mancanza di gelo per la missione spirituale. Questo problema è percepito come attuale da molti, che vedono una disconnessione tra la leadership ecclesiastica e le esigenze spirituali dei fedeli. Le profezie esortano i sacerdoti a rinnovare il loro impegno e a diventare veri pastori, capaci di guidare il loro gregge con amore e integrità. La visione della suora brasiliana aggiunge un ulteriore livello di urgenza a questo messaggio. La visione dei corpi ammucchiati e del bambino che piange rappresenta un avvertimento chiaro, senza un risveglio spirituale, le conseguenze saranno gravi. Questo non è solo un avvertimento per la Chiesa, ma per l'intera umanità. La chiamata alla preghiera e alla penitenza è rivolta a tutti, indipendentemente dalla loro posizione nella società o nella Chiesa. Il messaggio profetico complessivo è uno di speranza, ma anche di responsabilità. Invita ogni persona a riflettere sulla propria vita e sulla propria relazione con Dio. È un invito a guardare oltre le distrazioni del mondo moderno e a concentrarsi sulle cose che contano veramente, la fede, la preghiera e la carità. Questa narrazione continua rappresenta un monito per l'umanità. Le profezie di Lassalette, le parole di padre Michel Rodrigue e la visione della suora brasiliana sono tutti tasselli di un puzzle spirituale che ci invita a svegliarci e a prendere sul serio la nostra vita spirituale. La chiamata è chiara, è tempo di ritornare a Dio, di pregare con sincerità e di vivere una vita di virtù. Le parole profetiche, quando sono autentiche, non servono solo a prevedere il futuro, ma a chiamare le persone alla conversione e al rinnovamento. Questo è il cuore del messaggio di Lassalette e delle altre rivelazioni, un invito alla conversione che risuona attraverso i secoli, toccando i cuori di coloro che sono disposti ad ascoltare. Nel considerare queste profezie, è importante ricordare che non sono predizioni inevitabili, ma avvertimenti che possono essere evitati attraverso la preghiera e la penitenza. La storia della salvezza è piena di esempi di come la preghiera e il pentimento abbiano cambiato il corso degli eventi. Questo è un richiamo alla speranza, nonostante le sfide e le difficoltà, c'è sempre una via di ritorno a Dio. La visione della suora brasiliana e le profezie di Lassalette offrono una prospettiva unica sulla nostra epoca. Esse ci ricordano che la crisi spirituale non è qualcosa di nuovo, ma un problema ricorrente nella storia dell'umanità. Tuttavia, ci ricordano anche che la risposta a questa crisi è sempre la stessa, un ritorno alla fede autentica, alla preghiera sincera e alla vita di virtù. In conclusione, il messaggio profetico che emerge da queste rivelazioni è chiaro e potente. È un richiamo all'umanità a svegliarsi dal suo torpore spirituale e a ritornare a Dio con tutto il cuore. È un invito a pregare per la Chiesa, per i sacerdoti e per tutti coloro che sono chiamati a essere guide spirituali. È un promemoria del potere della preghiera e del pentimento per cambiare il corso degli eventi. Questa chiamata alla conversione è un messaggio di speranza, che ci ricorda che non è mai troppo tardi per tornare a Dio. Le profezie di La Salette, le parole di padre Michelle Rodriguez e la visione della suora brasiliana ci offrono una guida preziosa per navigare i tempi difficili che ci attendono. Ci invitano a non perdere la speranza, ma a rimanere saldi nella fede, sapendo che con Dio tutte le cose sono possibili. Mentre il messaggio profetico si dipana, il panorama spirituale del mondo si rivela in tutta la sua complessità e urgenza. Le parole di padre Michelle Rodriguez, le profezie di La Salette e la visione della suora brasiliana non sono solo avvertimenti, ma anche un faro di speranza e guida. Essi ci ricordano che, nonostante le oscurità e le difficoltà, c'è sempre una via per ritrovare la luce e la pace spirituale. Le profezie di La Salette hanno evidenziato una crisi spirituale che affonda le radici in una perdita di fede e in una corruzione morale che coinvolge non solo i fedeli, ma anche i loro leader spirituali. Questo è un tema che risuona con particolare forza oggi, in un'epoca in cui molti si sentono disconnessi dalla Chiesa e dalla spiritualità in generale. La figura della Vergine Maria, apparsa a Melanie e Maximini, diventa così un simbolo di maternità spirituale e guida, un richiamo alla compassione, alla purezza e alla vera devozione. Il messaggio centrale delle profezie di La Salette è quello della conversione. La Vergine ha esortato a una trasformazione interiore, invitando i fedeli a rinunciare al peccato e a vivere una vita di santità. Questo invito è rivolto non solo ai singoli individui, ma anche alle comunità e alla Chiesa nel suo complesso. La crisi profetizzata non è solo esterna, ma interna, una crisi di fede, di morale e di direzione spirituale. La soluzione, secondo queste rivelazioni, risiede in un ritorno sincero e totale a Dio, nella preghiera fervente e nella penitenza. La rivelazione del 1999, scoperta da padre Michel Corteville, ha riacceso l'interesse per queste profezie, portando alla luce nuovi dettagli e confermando l'importanza dei messaggi ricevuti alla Salette. Questa riscoperta ha dato nuova forza al messaggio profetico, rendendo possibile una discussione più aperta e approfondita su questi temi. La validazione della Chiesa ha inoltre permesso di esplorare questi messaggi senza il timore di censura, consentendo ai fedeli di confrontarsi con le verità scomode ma necessarie che essi contengono.